ho montato l'aspiratore geni perché ho avuto dei problemi di tiraggio in casa con una fumaria stretta e di diametro piccolo l'aspiratore funziona perfettamente ho risolto tutti i miei problemi faccio vedere dove ho montato il regolatore di velocità qui vicino al camino lo tengo a velocità 3 a velocità 4 secondo un po del vento faccio vedere velocemente dove ho montato l'aspiratore sul terrazzo c'è andata un po di pioggia però faccio vedere velocemente l'aspiratore eccolo qua funziona perfettamente gli elettricisti mi hanno fatto il collegamento diretto come avete potuto venire sotto in conclusione aspiratore fantastico risolto i miei problemi lo consiglio a tutti